Io sono stato invitato da CNA Modena per partecipare a questa meravigliosa settimana di incontri, magari ce ne fossero di più di frequente. Il mio intervento riguarda casi particolari e casi spot riferiti a lavori di adeguamento sismico, lavori per i quali poi si può chiedere l'agevolazione riferita al sisma bonus. Per cui molto velocemente farò una sintesi di quelli che sono stati alcuni casi, alcune tecniche di intervento circa questi interventi sia su edifici muratura e sia su edifici in calcestruzzo armato. Per cui farò una panoramica a volo d'uccello sulle più utilizzate tecniche adoperate dai progettisti per i miglioramenti e gli adeguamenti sismici. Grazie! 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 Grazie!